L'arma in più sarà la spensieratezza. La metterà in campo il basket Biceglie domani pomeriggio, palla 2 alle 18.30 contro Orzi Nuovi nei quarti di finale della Coppa Italia di Serie B. Non che manchi l'emozione a squadre e dirigenti di andare incontro ad un appuntamento storico. Per la prima volta infatti la società bicegliese ha conquistato l'accesso alle finali di Coppa ed il palcoscenico dell'Unipol Arena di Bologna per un eventuale semifinale e perché no per l'atto decisivo solletica i sogni della squadra di Sorgentone. Sarebbe molto bello non solo vincere la prima partita e il primo quarto di finale per poi poter andare a giocare alla Unipol Arena che è un palazzetto italiano molto prestigioso dove hanno giocato le più forti squadre d'Italia. Ciononostante non vorremmo fermarci neanche a vincere il quarto di finale, ci piacerebbe andare in fondo e vedere di cosa siamo capaci. Siamo orgogliosi di questo risultato e andiamo a Bologna consapevoli della difficoltà, dell'impegno ma anche carichi di voglia, di stupire, di stupire ancora contro i pronostici che da tutta Italia ci mettono fuori dalla possibilità di andare avanti però il nostro obiettivo è quello. Al tavolo delle migliori di tutti i gironi il basket Biceglie si siede contro i pronostici di inizio stagione lo ammette anche Sorgentone, nessuno aveva chiesto a questa squadra di qualificarsi per le finali di Coppa in pochi avrebbero pronosticato a questo punto del campionato il secondo posto alle spalle di Montegranaro la formazione bicegliese però non si sente per nulla imbucata all'appuntamento bolognese il campionato per adesso può aspettare. Nessuno ci aveva chiesto di qualificarci alla Coppa, nessuno penso fosse convinto all'inizio di poter essere a questo punto secondo in classifica, di conseguenza molto bene, molto soddisfatti del cammino fatto sin qui ma non appagati e convinti e consapevoli che il duro verrà proprio ora. Subito dopo il weekend di Coppa Italia, a prescindere da quanto durerà perché è l'eliminazione diretta dovremo subito dopo rimetterci al lavoro già da martedì prossimo perché abbiamo una gara importantissima in casa contro Matera e quindi non potremo distrarci, dovremo subito riprendere contatto con il campionato dove siamo secondi in classifica e quindi ci teniamo a mantenere la posizione per piazzarci bene ai playoff. Grazie.